buongiorno a tutti due giugno festa della repubblica 9 e 16 del mattino breve aggiornamento registrato niente diretta perché oggi giorno festivo e quindi anch'io tra poco con il trading automatico acceso mi dedicherò a un po di riposo un po di svago nello specifico da appassionato i motori superbike a misano adriatico ma torniamo ai nostri mercati in alto sinistra vediamo le performance della giornata petrolio 70,88 dollari rimbalza un po dax e fuzzimib ancora con performance positiva e il fuzzimib 26.710 punti attenzione alle resistenze che sono prossime e abbiamo il btp che ha rimbalzato bene si è portato a 116.71 insieme al bund un nasdaq che continua a fare bene e si avvicina ai 15.000 punti ieri vi ho postato il grafico sul time frame 60 minuti del fuzzimib eccolo qua ve lo ripropongo e qui vediamo dove su questo grafico ci sia uno dei ts che seguo che era andato short e poi ha chiuso lo short su questo key reversal rialzista chiuso lo short in guadagno vedete questo è il classico key reversal sul time frame 60 minuti minimo inferiore a quello precedente massimo chiusura sopra quella precedente in situazione di ipervenduto e da lì è partito il forte recupero del fuzzimib quindi rottura del supporto dopodiché quindi apertura degli short almeno per i miei ts chiusura degli short sul pattern di inversione rialzista che ha portato a un recupero notevolissimo di circa 600 punti che non sono pochi attenzione però questa mattina chiuso il gappettino in apertura ci sono le resistenze molto prossime c'è questo massimo qui che vedete il massimo relativo precedente soprattutto questo che è in area 26.900 punti esattamente 26.925 questo massimo non sarà facile forzare questa resistenza nel caso di forzatura di superamento dei 26.925 27.2 è l'altra area di resistenza importante però già oggi potrebbe scattare qualche presa di beneficio dopo la salute dopo la salita di ieri andiamo a vedere brevemente la gli hft questa mattina sono passati pochi minuti dalla dall'apertura andiamo a cambio un attimo schermata e vado a prendere eccole qua la situazione vede dall'apertura quindi circa 15 minuti nexi saipem iveco group stm stellanti sedia sorin ancora come titoli su cui si sono riversati un po di flussi in acquisto nei primi dieci minuti dall'altra parte titoli che sono venduti invece b per unicredit bami mps il venerdì è una giornata un po particolare per i flussi però anche ieri sono stati molto efficaci insieme al key reversal realtista nell'indicare quella che è stata l'inversione quindi gli hft hanno iniziato a comprare e insieme al pattern key reversal realtista si sono visti flussi che si sono rovesciati dal ribasso hanno iniziato a comprare e quindi queste due indicazioni assieme sono veramente molto efficaci nell'indicare prima di qualunque altro strumento l'inversione dei rapporti di forza tra compratori e venditori sui mercati azionari da ultimo proprio parlando di key reversal andiamo qua ho già fatto una scansione e vediamo che quest'oggi key reversal realzisti su base daily in situazioni di per venduto sono su questi titoli che vedete a sinistra situazioni invece di key reversal ribassiste in situazioni di per comprato sono quelli che vedete a destra quindi questa scansione grazie alla scanner vt explorer end of day questi scanner di pattern che sono di key reversal realzisti in iper venduto e key reversal ribassisti in iper comprato li trovate realizzati da me per all'interno del visual trader per chi gratuiti per chi vuole usufruire oltretutto lo ricordo dello sconto del 25 per cento della sottoscrizione del visual trader per tutti gli iscritti alla chat telegram quindi chi è iscritto la chat telegram ha diritto a gratuitamente a ricevere gli scanner per visual trader e anche la sottoscrizione dell'abbonamento con 25 per cento di sconto questo giusto per ricordarlo che era un po di tempo che non lo facevo io vi auguro un buon trading noi ci sentiamo nella diretta trading room lunedì prossimo e iniziate anche magari a programmarvi per chi vorrà una bella gita in riviera per romagnola per litiforum sarò a rimini il 15 e il 16 di giugno sarà anche l'occasione magari per andare a dare un contributo di presenza portare un po di turismo in romagna che se ne è tanto bisogno dopo l'alluvione quindi di nuovo vi auguro buon trading e ci diamo appuntamento appunto a lunedì alle ore 10 per la diretta